Nel tuo cammino di rilassamento, illuminati dallo Spirito Santo e accompagnati dalla comunità cristiana, siamo venuti in piena libertà nella casa del Padre perché il nostro amore riceva il sigillo di consagrazione. Consapevoli della nostra decisione, siamo disposti, con la grazia di Dio, ad amarci e sostenerci in un lato per tutti i giorni della vita. Ci impegniamo ad accogliere con l'amore i figli di Dio con l'amore e ai cari, secondo la parola di Dio e l'insegnamento della Chiesa. Chiediamo a voi, fratelli e sorelle, di pregare per voi e per voi, perché la nostra famiglia diffonda nel mondo luce, pace e consagrazione. Se dunque questa è la vostra intenzione di unire in matrimonio, datemi la testa ed esprimete davanti a Dio e alla sua Chiesa il vostro consenso. Grazie. 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 Grazie.